Siamo a Senza Limite Arte, la casa di un piccolo gruppo di giovani artisti che inaugura oggi a Colle Val d'Elsa un nuovo spazio espositivo. Le decine sono le opere in mostra che guardano a 360 gradi verso l'arte contemporanea italiana e non. Un percorso articolato e decisamente vario tra pittura, scultura e anche racco che riunisce in un unico contenitore stili, tecniche, filosofie e pensieri diversi in fatto di arte. L'idea di Angela Corsi e dei suoi compagni artisti è quella di rendere senza limite arte uno spazio espositivo dove davvero non ci sono confini alle idee e alle espressioni artistiche. Io sono alla Fonte delle Fate a Poggi Bonzi, struttura edificata intorno al XIII secolo e riportata alla luce nel 1800. All'interno della Fonte è collocata l'opera I Dormienti realizzata da Mimmo Paladino. È composta da 25 sculture in bronzo, poste nell'acqua come ricordo del liquido amniotico, a testimonianza come ogni forma di vita tragga la sua origine dall'acqua. E dall'arte di Mimmo Paladino passiamo adesso all'arte di Maurizio Balducci.